Ancora brutte notizie per quanto riguarda il lavoro, un piccolo acconto dello stipendio di novembre, nessuna tredicesima e neanche la cassa integrazione sono in difficoltà i dipendenti dello zoo di Napoli che questa mattina hanno di nuovo protestato per chiedere l'intervento delle istituzioni. I dipendenti continuano intanto a curare gli animali ma senza soldi e presto ci saranno difficoltà anche per loro. La richiesta dei dieci operai dello zoo è destinata al comune di Napoli per chi intervenga con un piccolo finanziamento che aiuti la struttura a passare almeno l'inverno. Un piccolo acconto dello stipendio di novembre, nessuna tredicesima e neanche la cassa integrazione sono in difficoltà i dipendenti dello zoo di Napoli che questa mattina hanno di nuovo protestato per chiedere l'intervento delle istituzioni nel salvataggio dei posti di lavoro e degli animali. Il curatore fallimentare non ha più soldi, spiegano gli operai. Ci è stata pagata una parte degli stipendi di novembre ma poi nulla più. Il tribunale fallimentare ha accettato il piano di rientro del curatore Salvatore Lauria e dentro il 31 marzo 2012 si dovrebbe concludere il bando per il recupero della struttura ma nel frattempo noi siamo senza paga. I dipendenti dello zoo intanto continuano a curare gli animali ma senza soldi, dicono, presto ci saranno difficoltà anche per loro. La richiesta dei dieci operai dello zoo è destinata al comune di Napoli poiché intervenga con un piccolo finanziamento che aiuti la struttura a passare l'inverno.